Di cosa non volete più sentire parlare nel 2019? Di politica. Siamo davanti ai palazzi della politica. No, politica, problemi, spazio, parliamo delle cose belle, via. La parola invece che vuole sentire nel 2019? Serenità. Lavoro un po' per tutti, basta con i lavori precari, magari un po' più di stabilità anche per noi. La manovra ce la siamo lasciati alle spalle, anno nuovo, temi nuovi. Quali sono le parole bandite nel 2019 dagli italiani? Non voglio sentire più parlare di... Tasse, troppe tasse, tasse e accise. Corruzione ma la vedo dura. Sicuramente dei grolli dei monti. Omicidio contro le donne, basta. Di povertà. Della spazzatura a Roma, dei rifiuti. E secondo lei non ne sentirà più parlare nel 2019? No, penso che ne sentiremo parlare ancora tanto. E quali sono le parole che si vogliono sentire nell'anno nuovo? Ricerca. Investiamo un po' più di soldi sulla ricerca. Giustizia. Giustizia è pari opportunità per tutti. Pace, pace, pace. Per tutti. Come si dice in arabo? A fiducia nella politica? Non è molto, non dico bugia. Quota 100 è il reddito di cittadinanza. Ce ne sentiremo parlare ancora? Non c'è dubbio. Si parla di queste cose che sono gli antidesi con gli investimenti e il lavoro. Io preferisco lavorare. In questo momento, per noi prima ci tocca la pazienza. Sentimento nei confronti della politica? Rabbia, disillustione? No, 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 io al momento sono fiduciosa. A fiducia in questo governo? No, a fiducia nel palazzo. È bello solido. No, no, il palazzo è solido. Quale sarà secondo lei la parola del 2019? Tiamo crisi politica. Dopo le europee. Per colpa di Salvini, di Di Maio? Più di Salvini, sì. Di chi non vorreste più sentir parlare nel 2019? Di Renzi. Perché? Perché Renzi passa? Perché ha fatto un sacco di promesso e non ha mettuto niente. Non voglio sentire parlare più di Berlusconi. Se si candida le europee? No, guarda che ti squinzaglio il cane. Ciao.